Buon pomeriggio, io sono un'insegnante di scuola primaria, ma a fianco all'insegnamento ho amato coltivare altri interessi, quello della scrittura, dell'illustrazione e anche lo studio, anche col professor Fabbro della psicologia della personalità. Il titolo della mia presentazione è un po' particolare, mentre stavo stendendo un po' alcune idee per questo intervento, avevo gettato un veloce titolo, narrare prospettive, sottintendendo un punto tra il nome e il verbo. Volevo infatti guardare al tema attraverso la prospettiva della narratrice e la prospettiva dell'insegnante, però poi non avevo scritto il punto, era un titolo gettato velocemente e l'ho letto, narrare prospettive, quindi prospettive è diventato il complemento oggetto. Mi sono chiesta se potesse avere senso il titolo lasciato così e se fosse importante e ho concluso che per me era importante, che per me narrare significa aprire prospettive, condividere prospettive e così ho deciso di lasciare questo titolo aperto. Apertura e prospettive sono due parole chiave delle riflessioni che vorrei condividere con voi oggi. Non so se posso condividere allo schermo adesso. Ok, si vede? Si vediamo. Ok, allora, ho scritto un piccolo libricino che comprende nove racconti, sono nove storie che hanno al loro centro un personaggio e ogni personaggio, quindi sono nove personaggi principali, è stato costruito attorno a certi tratti di personalità. Il mio obiettivo primo era quello di presentare nove storie che lasciassero emergere nove personaggi in cui il lettore potesse specchiarsi se vi si ritrovava, quindi anche identificarsi con lui e quindi anche avviare un processo di riflessione su di sé attraverso l'osservazione del personaggio e poi allo stesso tempo anche così aprirsi ad altre prospettive, le prospettive dei personaggi che poteva avvertire anche come lontani da sé e quindi pensando a questo libro in ambito scolastico alla valenza che poteva avere nell'educazione e anche al mettersi in ascolto anche del diverso e anche di sé stessi. Quindi ho scritto i racconti, scrivere i racconti è stato molto lento, molto piacevole, però poi mancavano le illustrazioni. Le illustrazioni sono state un po' più difficili da trovare perché mentre con la scrittura mi sembrava che sia più facile rimanere fedeli alle immagini così vaghe e aperte dell'immaginazione, con il disegno e la pittura si va un po' a dare forma a queste idee fluttuanti e bisogna chiuderle un po', chiuderle un poco. Però qua c'era la sfida di tenere aperta l'immagine, quindi permettere di evocare altri significati e evocare così il mondo, l'immaginario di chi leggeva, di chi guardava l'immagine. Partiamo dalle prospettive, a narrare prospettive, cosa significa? Quindi, narrare prospettive, quando parlo di questo intendo della capacità della narrazione di permetterci di assumere diversi punti di vista, di condividere le prospettive dei personaggi, di rispecchiarci con i personaggi che magari sono più affini a noi o che magari possono essere dei modelli a cui tendere e personaggi che possono instillare in noi anche un processo di autoconoscenza, di autoriflessione. Narrare prospettive significa anche dare la possibilità di allargare lo sguardo, di assumere occhi diversi dai nostri, anche molto lontani. Come scrive l'Allevorato, la conoscenza delle azioni umane, incardinata nel pensiero narrativo, ci permette di rappresentarci la soggettività degli altri, inferire lo stato mentale al tru, e le sue emozioni, assumere la prospettiva degli altri, metterci nei loro panni e attribuire agli altri quelle qualità e disposizioni più o meno permanenti che ci permettono di comprendere, decifrare anche le loro azioni. Nel 2014, quando scrissi la mia prima tesi, lasci questo articolo molto interessante di come parlò il professor Fabbro, che venne pubblicato su Science, di Kili Castano, che si intitola Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind. Leggere la narrativa letteraria migliora la teoria della mente. Mi interessai molto questo. La teoria della mente, ha detto Tom, è la capacità di fare inferenze sugli stati mentali degli altri, sulle loro credenze, pensieri, intenzioni, sentimenti. Alcuni autori hanno distinto tra Cognitive Tongue, che è riferito alla capacità di inferire le credenze e le intenzioni degli altri, e l'Affective Tongue, che invece è legata alla capacità di comprendere le emozioni. Questa ricerca mise in luce come chi leggesse stralci di opera di narrativa letteraria avesse performance migliori in test che andavano a valutare abilità legate alla teoria della mente, sia Cognitive Tongue che Affective Tongue, e le performance erano migliori rispetto a quanti non leggevano o leggevano opere non di narrativa o di popular fiction, di opere di letteratura di genere. Questi autori hanno riflettuto sul fatto che la narrativa letteraria dipinga i personaggi in modo molto più complesso e meno stereotipato rispetto ad altre opere di narrativa, e quindi coinvolga il lettore in processi di inferenza nella comprensione dei personaggi più complessi. Secondo gli autori poi questa lettura che il lettore si trova a fare delle menti dei personaggi, poi viene replicata anche nei processi di conoscenza dell'altro, nella vita reale. Si parla di altre qualità della letteratura cosiddetta alta, che è la capacità di defamiliarizzare lettori, e la capacità di coinvolgere i lettori come scrittori o riscrittori di quanto leggono. Detto più chiaramente con le parole di Brunner, i romanzi letterariamente pregevoli vertono su eventi del mondo reale, ma lo rendono inconsueto e strano, riscattandolo dall'ovvietà, e inserendovi dei vuoti che sollecitano il lettore a diventare lui stesso scrittore, e ad elaborare un testo virtuale in risposta alle sollecitazioni di quello reale. Alla fine il lettore che deve riscrivere per se stesso quello che intende fare del testo reale. E poi appunto al centro della narrazione letteraria sta proprio questo, un racconto orale, un testo che mira ad innescare, a guidare una ricerca di significati all'interno di uno spettro di significati possibili. Io amo l'arte e l'illustrazione, quindi mi sembra che questo dipinto aiuti forse a comprendere un poco anche il testo. Ecco, quindi Brunner individua poi anche delle caratteristiche del discorso che rendono possibile il coinvolgimento del lettore. La presenza degli spunti e la presupposizione, cioè la creazione di significati impliciti anziché espliciti, perché se tutto è spiegato, tutto è esplicato, allora anche il grado di libertà, di interpretazione del lettore è nullo. La soggettivizzazione, cioè la rappresentazione delle cose attraverso il filtro della coscienza dei personaggi, e la presenza di una pluralità di prospettive, cioè il mondo viene visto non in modo univico, ma attraverso tanti punti di vista che poi permettono di cogliere la realtà da più direzioni. In conclusione poi, l'espressione narrativa non ci dice come il mondo, ma ci dà delle prospettive mutevoli che possiamo mettere a punto per comprendere meglio l'esperienza. Allora, questi vuoti di cui ha parlato anche Brunner, sono i vuoti su cui mi ero messa a riflettere mentre scrivevo i racconti, ma soprattutto cercavo di dare forma alle illustrazioni. Con questi vuoti intendo quegli spazi proprio in cui il lettore può esplorare le possibilità di interpretazione del testo, attingere alla sua fantasia, alle sue esperienze, alle sue rappresentazioni, in cui può costruire e scrivere. Un po' come questo dipinto di questo famoso pittore romantico Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia, dove questa nebbia, mi sembra rappresentare proprio quello che sento e che intendo per spazi, quelle zone che sebbene permettano, lasciano che il racconto, che il dipinto narri, racconti molto, preservano il mistero. E quindi in queste zone di mistero c'è possibile espandere i significati del racconto visivo in questo caso. Ok, sempre parlando di spazi, di rispecchiamento, un testo in cui ho trovato confarto durante l'attività di scrittura, è stato questo testo di Schoenberg e Kandinsky, musica e pittura. Non sono un'appassionata di musica dodecafonica, che non capisco, di cui Schoenberg è esponente, né comprendo l'arte astratta di cui è esponente invece Kandinsky. Tuttavia, in questo libro, in cui sono raccolte le lettere, la corrispondenza tra i due artisti, che erano amici e altri loro saggi, è molto interessante andare a vedere che cosa questo pittore, questo pittore che in realtà anche suonava, musicista e compositore che anche dipingeva, è con la loro visione che avevano dell'arte, arte in senso ampio, letteratura, pittura, musica. E qui trovo di nuovo gli spazi, nelle parole di Kandinsky. Secondo Kandinsky, il compito dell'uomo, in ogni campo dello spirito e dell'arte, è quello di comprendere ed esprimere ciò che si è compreso. Per lui, la conoscenza avviene attraverso delle sottili vibrazioni dell'anima. Quando l'artista sente queste vibrazioni, ha la necessità interiore di esprimere attraverso un mezzo, che può essere la parola, il suono o il colore, e quando attraverso questo mezzo viene data forma questa vibrazione, chi la percepisce a sua volta ha questa vibrazione interiore. Però questa seconda vibrazione che si presenta nell'ascoltatore, nel lettore, è, dice Kandinsky, è pressoché identica alla prima, però può essere più o meno forte, più o meno intensa, a seconda del grado di maturità, a seconda del momento in cui vive questa persona. E inoltre, la fantasia di chi legge, ascolta, osserva un'opera d'arte, si eccita e integra alla creazione dell'artista. A questa collaborazione gli artisti sono sempre ricorsi. È necessario lasciare un certo spazio libero tra l'opera e la sua espressione estrema. E questa terra di nessuno è uno spazio in cui il lavoro della fantasia può svolgersi liberamente. Ora, a queste parole si potrebbero dare molte interpretazioni, la sento io però personalmente molto vicina alla lettura che ho fatto delle prime riflessioni anche di Brune. Quindi questi spazi in cui il lettore o chi osserva l'opera è incitato ad aggiungere quello che manca attingendo alla propria prospettiva, ecco, alla propria soggettività, alle esperienze, alla fantasia. Un ponte tra l'arte figurativa e i testi di narrativa è rappresentato dall'illustrazione che è arte applicata ed è anche narrazione, viene definita letteratura a colori. Un luogo per eccellenza in cui l'illustrazione può essere apprezzata e proprio come narrazione è l'albo illustrato. L'albo illustrato in cui il testo viene ridotto al minimo, addirittura scompare, ed è l'immagine che racconta la storia. E qui ritornano i temi degli spazi e delle prospettive. L'illustrazione, l'immagine ha quel grande pregio di poter rappresentare in modo immediato la realtà, in modo scombinato, in modo non ordinario e attraverso delle soluzioni figurative anche originali. E quindi presentare la realtà attraverso punti di vista extraordinari. E poi l'attivazione del processo inferenziale, con questi spazi vuoti che si trovano sia all'interno di una sola tavola, di una sola immagine, quanto più l'immagine è poetica e lascia spazio all'indefinitezza, tanto più il lettore o chi osserva l'immagine può farla crescere e andarla a riempire con quello che quell'immagine gli provoca. Però gli spazi vuoti poi si ritrovano anche tra un'immagine e quella successiva, tra una pagina e l'altra, in cui il lettore deve trovare il nesso, la storia che manca tra una tavola e quella successiva. Ha portato questo libro a scuola e volevo parlarvi un po' delle riflessioni che sono poi emerse, perché tutto quanto condiviso adesso è quello che è emerso mentre scrivevo, mentre illustravo riflessioni pre, durante e dopo. Quando poi ho portato il libro a scuola, avevo già lato alcuni racconti ai bambini, avevo già avuto modo di sperimentarlo con loro, e l'ho presentato anche alle colleghe. Mi è stato chiesto per che età fosse rivolto il libro. Non ci avevo mai pensato seriamente, perché quando si scrive, si illustra un racconto, almeno non vado a considerare l'età, perché un'opera mi sembra valida, possa essere valida sempre. Qualcuno mi ha fatto notare che il libro poteva non essere adatto a bambini di scuola primaria, o adatto sì, ma un po' sprecato, più adatto a bambini più grandi, che fossero già più maturi dal punto di vista riflessivo. Al che mi sono messo un po' in dubbio anche il lavoro, però mi è capitato poi di presentare lo stesso libro in una scuola dell'infanzia. Una maestra mi ha chiesto di leggere racconto a un gruppetto di bambini tra i 4 e i 6 anni. Ero un po' imbarazzata, perché il racconto era un po' lungo, quindi ho letto un raccontino, un po' letto e un po' raccontato. Sono rimasta molto sorpresa nel vedere che i bambini stavano attenti, vigili, che osservavano tutte le immagini, tutti i dettagli che mostravo loro, e che rispondevano alle domande che facevo e che riflettevano. Riflessioni semplici, ma molto fresche e importanti. E ho durato poco, un momento breve, perché l'attenzione, si sa, non è così lunga, però intenso. E qui ho preso coscienza di quanto fosse importante dare fiducia a questi bambini. È una cosa a cui si pensa quando lo si è in università, si segue il percorso universitario, non si è ancora entrati nel contesto scolastico e si dà per assunte queste idee, questi principi. Poi, entrati nel mondo della scuola, lì si mette un po' in dubbio. Invece, penso sia molto importante non avere paura, non temere di volare troppo in alto, anche con i bambini, di proporre a loro dei testi che li inducano a riflettere, e anche al di là delle capacità che pensiamo possano avere. Sapendo, a priori, che ognuno può comprendere e comprenderà ciò che sarà in grado di comprendere, ma che questo vale per i bambini di 6 anni come per l'uomo di 40, 50 e 60. Quindi, la bellezza, la poesia e la narrazione alta sono da considerarsi senza età. Vorrei concludere con una piccola riflessione. Alcune parole che ho tratto da un articolo di Livio Sossi, in cui parla dell'illustrazione, dell'albo illustrato. Dice, i bambini non sono stupidi e sanno comprendere il linguaggio metaforico ed onerico delle immagini che non sono uniche ed autoreferenziali, ma si prestano a molteplici livelli di lettura. Leo Lioni scriveva, non credo che il bambino debba crescere in un'atmosfera dove tutto è chiaro. Sono solito affermare polemicamente che non esiste un'illustrazione per bambini, come non esiste un'arte per bambini, una grafica per bambini o una scrittura ed una letteratura per bambini. Se l'illustrazione, l'arte, la grafica, la scrittura si piegano intenzionalmente verso l'infanzia con modalità bamboleggianti. Esistono invece l'illustrazione, l'arte, la grafica, la scrittura, la letteratura. La mia conclusione è più un augurio per me in primis, ma per tutti gli insegnanti presenti e futuri che guidino, si lancino loro stessi in voli alti e che non abbiano paura di farlo in compagna dei bambini. Grazie. 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 Grazie.